Come evitare lesioni nervose nella chirurgia degli ottavi inclusi? Care colleghe, cari colleghi, sono Jason Motta-Jones e da più di 20 anni lavoro nel campo della chirurgia orale in varie strutture e in collaborazione con istituzioni accademiche come l'Università degli Studi di Milano, l'Humanitas Research Hospital e la Piezo Surgery Academy, la SICOI e la Italian Academy of Ostia Integration di cui sono socio fondatore. Quando la presenza di Ottavi Inclusi necessita un intervento di natura chirurgica sappiamo che ci troveremo ad affrontare una chirurgia sempre nuova, ostica, che non possiamo in nessuna condizione considerare come una banale routine. Il corso Ottavi Inclusi realizzato con Osteocom ha l'obiettivo di diventare uno strumento di supporto per aiutare chiunque si cimenti alla chirurgia degli ottavi inclusi ad affrontare l'intervento con serenità e preparazione. La struttura del corso prevede una serie di lezioni teoriche supportate da diversi interventi con formula Real Life ed è adatto sia a chi può contare su una comprovata esperienza, sia a chi muove i primi passi nella direzione di questo approccio chirurgico. Con questo corso imparerete la gestione e la prevenzione delle complicanze intra-operatorie e post-operatorie, dalla valutazione della posizione degli ottavi, dall'anestesia fino all'incisione con in particolare attenzione al trattamento chirurgico e alla gestione post-operatoria del paziente. Come prevenire il danno neurologico e come affrontare in sicurezza la procedura estrattiva con l'analisi preventiva dei rischi. Infine lo sviluppo delle tecniche chirurgiche come l'odontotomia e lo strumentario chirurgico necessario. Sono sicuro che alla fine del corso potrete lavorare con maggiore serenità nel momento in cui affronterete un intervento di chirurgia degli ottavi inclusi. Vi aspetto!